E' la libertà? E' la verità? O magari la pace? Non mi dica che è l'amore! Illusioni, signor Anderson, capricci della percezione! Ormai dovrebbe aver capito, signor Anderson, a quest'ora le sarà chiaro, lei non vincerà, combattere è illusile! Perché, signor Anderson, perché? Perché persiste? Un grandissimo saluto e felice di avervi intrattenuto per qualche minuto. Un grandissimo saluto da Ennio Coltorti a Radio Alba e a Dieguito e a tutti voi!